CGL, Cisle e Will propongono l'avvio di una fase serrata di confronto e di bantito con tutti i rappresentanti delle parti sociali, istituzionali, politiche e imprenditoriali che permetta la redazione di una piattaforma capace di offrire alla provincia di Teramo una concreta prospettiva di rilancio sul piano economico e sociale. Qual è la fotografia oggi del territorio terramano? La fotografia oggi del territorio terramano è molto particolare e va attenzionata. Abbiamo fatto presente già in più di un'occasione che c'è bisogno di un intervento reale, serio e concreto per rilanciare questo territorio dal punto di vista sociale ed economico. Abbiamo attenzionato le istituzioni locali e provinciali sul fatto che 81 mila lavoratori hanno dovuto fare ricorso alle misure di sostegno e quindi noi dobbiamo muoverci per garantire a queste persone un futuro lavorativo certo e sicuro. Così come abbiamo cercato di sensibilizzare le istituzioni locali e provinciali per far sì che venga fatta una piattaforma unitaria che abbia come scopo appunto rilancio economico e sociale di questo territorio. Siete arrivati a questo incontro con delle proposte ben precise. Quali sono quelle più significative? Le più significative intanto sono quelle che riguardano l'industria perché questo è un settore, una provincia che ancora impoggia il suo PIL ma anche la sua occupazione, la sua fetta di occupazione principale sull'industria. In questo caso noi, lo diciamo già dal tempo, noi qui dobbiamo in qualche modo mettere in campo dei progetti che siano in grado di mettere insieme le aziende, le esperienze industriali che ci stanno, una per tutte, l'abbiamo detto tante volte, sull'agroalimentare. Qui c'è un insieme di saperi, di competenze, di esperienze che insomma vanno messe insieme e vanno in pratica vanno in qualche modo capitalizzate anche per fare delle start-up innovative. Proviamo a fare dei ragionamenti anche sul turismo, proviamo a farlo sulle aree interne. Chiaro, tutto deve essere anche legato e in qualche modo sostenuto dalle competenze, dai saperi e noi pensiamo che quello che è insomma l'insieme degli istituti formativi che stanno in quella provincia e l'università in primis possono dare una spinta importante. L'incontro di oggi in provincia è un altro step verso la soluzione dei problemi che avete prospettato? È il secondo passaggio dopo l'iniziativa di due settimane fa che ha proprio l'obiettivo di andare a presentare quelle che sono le nostre idee o se preferite le nostre riflessioni che sono contenute in otto schede che vanno un po' a racchiudere i nostri ragionamenti con un obiettivo ben preciso, quello di chiedere dopo aver depositato queste idee qui presso la presidenza della provincia, di chiedere urgentemente come abbiamo sottolineato anche l'altra volta la convocazione dell'assemblea dei sindaci allargata alle parti datoriali, alle camere di commercio, al mondo della conoscenza indeso sia come università che al mondo scolastico perché riteniamo che come abbiamo già più volte sottolineato in questi giorni che bisogna fare in fretta.